Grazie a tutti di essere qui stasera, come sapete la lezione aperta è un momento in cui condividiamo quello che abbiamo fatto in classe, per queste settimane che siamo stati insieme per il primo anno, posto di minimo pantomima, gesto eccetera eccetera eccetera, abbiamo fatto un lavoro con la maschera neutra, abbiamo fatto due parti, abbiamo fatto un lavoro sui venti movimenti, allora tecnicamente abbiamo quattro gruppi, ognuno doveva scegliere sette dei venti movimenti, in andata e in ritorno. Per il resto della serata ci saranno delle scene che gli allievi hanno creato loro stessi partendo dallo studio con la maschera neutra di elementi e materie e ci sarà un'incursione di una, due, tre, maschere da parte, quindi buona serata, ci vediamo dopo. Grazie. 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 Vendino, signori, vendino, altro giro, altra corsa. I vengen, vengen, ho hasicucato. Dopo la terza corsa, la quarta i tràdic. Corta avanti. Un, un, un... Un, 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 un... Un, un... Uno, via! No! No! nooooo ehhh ehhh ehh ehhh ehhh Giorgia 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 grazie a tutti 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 grazie a tutti